Mi è venuta un'idea per un lavoro. Avevano detto basta. Un lavoro buono. Il Diamond Center. Porca troia, voi siete fuori. Diamond Center non è un posto qualunque. O sei come loro o non entri. Ho individuato una piccolissima crepa nel suo sistema di sicurezza. Senta, mio marito è innocente. Qua ci sarà almeno un miliardo di dollari. Abbiamo a che fare con una banda ben organizzata. Per i nomi, perché non facciamo come nel film Le Iene, Mr. White, Mr. Pink? Ma siamo sicuri di questo? Vabbè, questo è un deficiente. Io ho deciso di ignorare quel brivido. Non è un coraggioso, è solo uno stupido. Tu mi vuoi fregare? È presente quelli che dicono io l'amor mi cavallo a rubare. E farei fare un giretto qua sotto con noi.